Ciao a tutti ragazzi bentornati al mio canale e oggi ho finito di disegnare mia, oppure fate la mia firma, ed è meravigliosamente meravigliosa, dovete vedere i miei short video perché lì ci sono delle cose meravigliote, fate il like eh, mi raccomando, credo che sia un po' uguale a una cosa, però io devo fare un attimo una cosa qua, ok, ti prego per voi, che numero date fino a 10? Io non lo so, è la mia prima volta che copio una cosa per bene, è la mia prima volta e ci provo più di una volta, quindi farò altri disegni, ve lo prometto, quindi dovete vedere anche i short video sui disegni alcuni, ok? Quindi date un pollice in su, fate like, share, subscribe, se riuscite a commentare sotto i commenti potete farlo, e poi vi faccio vedere dove ho copiato questa, questo qua, ok? Ok, l'ho copiata qua, da dove ce l'ha scritto Penso, questa parte qui, e non credo proprio che sia molto identica, però almeno ci ho provato e mi sono divertita e rilassata moltissimo, è bellissima, avete un pollice in su, ciao! Ciao!